Risultato bugiardo o ci sta la sconfitta? Diciamo che abbiamo iniziato bene nel primo tempo, siamo entrati in campo con il giusto anteggiamento ma purtroppo quando abbassi la tensione, soprattutto nei minuti finali, queste squadre ti castigano subito e non deve succedere perché comunque portavi a casa un buon punto per la salvezza. Diciamo che nel secondo tempo hai riprovato a fare quello che hai fatto con il Latina l'anno scorso, il tiro da posizione decentrata in area di rigore, con il Latina ti è andata bene? Sì, diciamo sono scivolato anche quindi non è andata come lo scorso anno. Ti chiedo invece quanto sei stato vicino a vestire la maglia del Pescara quest'estate? Quest'estate sì, mi hanno contattato sicuramente il direttore e c'era un buon... dovevo arrivare a Pescara comunque, non hanno trovato l'intesa con il Latina e successivamente mi ha chiamato Lavellino e hanno trovato l'intesa e sono diventato un irpino. Si sente più, e chiudiamo, una mezzala o un quinto San Nipolo? Io nasco mezzala e sono una mezzala e poi mi adatto benissimo a fare il quinto, il trequartista, il mediano. Sicuramente dove il mister crede che posso fare meglio e dare il mio meglio io sono pronto a farlo in campo.